Iniziamo con un saluto agli ascoltatori di Radio Bequit Evangelica che seguono in diretta questa prima conferenza stampa del Sinodo della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste che si svolge a Torre Pellice in provincia di Torino, iniziato ieri fino al termine di questa settimana, e indifferita un saluto agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza che ci ascolteranno nel pomeriggio. Come dicevo è la prima conferenza stampa di questo Sinodo e queste conferenze stampa e tutta l'attività di comunicazione del Sinodo è un progetto integrato che vede il lavoro e l'impegno di più soggetti, tra cui Radio Bequit Evangelica, il settimanale delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi Riforma, la versione Riforma Online, e l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'agenzia NEV, Notizie Evangeliche. L'argomento di questa prima conferenza stampa è l'immigrazione, una priorità, come ribadisce anche il Sinodo di quest'anno, per tutte le Chiese Valdesi e Metodiste, un impegno concreto che però non è dettato dall'emergenza, come spesso si sente dire nella stampa nazionale, ma che è un impegno concreto ormai da decenni per tutte le nostre Chiese, ed è spinto dalla comune vocazione all'accoglienza che l'Evangelo porta ad avere come testimoni dell'Evangelo appunto di Gesù Cristo. Di questo oggi ne parleremo, degli sviluppi più recenti di questo impegno delle Chiese Valdesi e Metodiste, ne parleremo con tre ospiti, abbiamo Paolo Naso, della Commissione Studi della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, impegnato nel progetto Mediterranean Hope, ne parleremo con Marta Bernardini, che è un'operatrice in Lampedusa, sempre del progetto Mediterranean Hope, e ne parleremo anche con Marco Armandu Gon, che segue un altro progetto di accoglienza che si svolge a Torino e nella provincia di Torino, in particolare per la provincia nella zona delle Valli Valdesi. Quindi io direi che diamo subito la parola a Paolo Naso, che ci presenta meglio le linee, le direttrici, ma anche quelle che sono le proposte operative che questo progetto Mediterranean Hope porta avanti. Prego. Grazie. La Federazione delle Chiese Evangeliche ha un lungo impegno, una lunga storia di impegno nel campo delle migrazioni, con una struttura dedicata che opera da oltre vent'anni in questo ambito. Ma diciamo che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto l'impressione che fossimo davvero di fronte a una svolta epocale, per cui abbiamo coniato in qualche modo l'espressione Migrazioni 2.0. Per dire che cosa? Per dire che il fenomeno migratore o mediterraneo, quello che vediamo ogni giorno nei nostri telegiornali, ha una natura, una radice, una prospettiva diversa dalle migrazioni importanti che l'Italia ha conosciuto tra gli anni 80 e gli anni 90. Quelle erano migrazioni con una finalità, con una razionalità determinata dall'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qui invece la grande causa di queste migrazioni è il collasso di intere aree geopolitiche che determinano persecuzioni, che determinano condizioni di miseria e anche di violazioni plateali di fondamentali diritti umani che spingono nuovi soggetti migratori a emigrare, anche senza avere una chiara prospettiva del loro progetto. Il fatto che registriamo che ormai il 15% dei migranti siano minori o non accompagnati, ci dà la misura davvero di un nuovo profilo migratorio. Per rispondere a queste esigenze, la federazione, d'intesa con la tavola valdese, ha elaborato un progetto denominato appunto Mediterranean Hope, che sostanzialmente si struttura in quattro gambe, diciamo un po' come le gambe di un tavolo. La prima struttura alla quale voglio fare riferimento è l'osservatorio Lampedusa. Sarò molto breve perché Marta Bernardini è operatrice presso questo osservatorio da oltre un anno e mezzo. E sostanzialmente il centro, l'osservatorio di Lampedusa, ha una funzione certamente di prima accoglienza, è ovvio. I migranti continuano ad arrivare a Lampedusa, anche se di questo vi è scarsa informazione sui media. Ma soprattutto l'osservatorio ha la funzione di aiutarci a interpretare cosa sta cambiando nelle emigrazioni mediterranee, quali sono le peculiarità delle emigrazioni mediterranee. L'attività di comunicazione per le chiese italiane e quelle dell'estero è un fondamentale impegno di questo osservatorio. Una seconda gamba di questo tavolo di Mediterranean Hope è costituita dal centro di accoglienza Casa delle Culture di Scicli, siamo in provincia di Ragusa, a pochi chilometri da Pozzallo. Come l'espressione indica è un centro che accoglie, che accoglie soggetti vulnerabili, donne, donne sole, donne incinta, donne con difficoltà, minori, minori non accompagnati, persone comunque con difficoltà, che opera in stretto rapporto ovviamente con la prefettura di Ragusa, senza essere una struttura che rientra nell'apparato che il Ministro della Difesa si è dato. Quindi non è, per intenderci, uno SPRAR, uno di questi centri che accolgono gli emigrati nel quadro di convenzioni con le rispettive prefetture. È un'iniziativa particolare, autonoma, totalmente autofidanziata, che ha un target specifico nelle persone vulnerabili e soggetti con difficoltà. L'abbiamo voluta chiamare Casa delle Culture e non soltanto centro di accoglienza. A sottolineare il fatto che l'accoglienza non è indipendente dai percorsi di integrazione, l'accoglienza non è un esercizio unilaterale, ma è uno scambio anche nel momento iniziale dell'arrivo dei migranti, da cui una serie di attività collaterali ma centrali per la Casa delle Culture tesi appunto all'incontro, allo scambio con la popolazione locale, dai concerti ai convegni alle feste. Terza gamba del tavolo è quella che si chiama Relocation Desk, cioè una struttura che accompagna i migranti che arrivano nelle nostre strutture nel loro percorso migratorio. In qualche caso faranno domanda di asilo, in altri casi vorranno andare all'estero, dovrei dire vorrebbero andare all'estero, ma come noto le norme vigenti di fatto non lo consentono. Tuttavia questo ufficio ha la funzione di aiutare i migranti a onorare la loro promessa, onorare il progetto che in qualche modo si sono dati. Ultima ma fondamentale gamba di questo tavolo è invece un Desk umanitario che la Federazione delle Chiese Evangeliche, d'intesa con la comunità di Sant'Egidio, intende avviare in alcuni paesi del Nord Africa a iniziare dal Marocco. Si intende, in altre parole, avviare, aprire un canale umanitario sulla base della normativa vigente sui visti, che consente a un paese dell'Unione Europea di concedere dei visti di ingresso in Italia, nel nostro caso, a soggetti vulnerabili, bisognosi di protezione. È una normativa in qualche modo non soltanto certificata, ma utilizzata già dall'Unione Europea in alcuni momenti critici, penso alla crisi dei Balcani. Noi stiamo lavorando, d'intesa, col Ministero degli Affari Esteri, che ha dato un consenso di massima, e con il Ministero degli Affari Interni, con il quale stiamo attivamente discutendo dei dettagli di questa proposta, perché le sedi consolari italiane in Marocco, per iniziare, consentano a soggetti vulnerabili la possibilità di ottenere un visto di ingresso. Qual è il vantaggio di questa cosa? Che ovviamente queste persone sono sottratte dal ricatto criminale degli scafisti e delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico lungo le rote mediterranee. Quindi è una proposta in progress, che ha una sostanza ecumenica, perché la gestiamo insieme a un'agenzia di volontariato importante, accreditata, come la Comunità di Sant'Egidio, ed è su queste quattro gambe, diciamo, tutte quante importanti, tutte quante significative, che questo progetto della Federazione, ma generosamente sostenuto per 8 per 1000 della Tavola Valdese, spera di poter contribuire a una gestione significativa di questi nuovi flussi migratori, appunto, totalmente nuovi, 2.0, come dicevamo. Prima di ridare la parola a Marta Bernardini, che è operatrice dell'Osservatorio di Lampedusa, volevo ricordare che questa sera la serata pubblica del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste è dedicata proprio al progetto Mediterranean Hope. Allora, questa sera, nel Tempio Valdese di Torrepellici, alle ore 21, avremo una serie di ospiti che ci aiuteranno a comprendere meglio gli aspetti che Paolo Naso ci ha illustrato di questo progetto. Vuoi ricordarci qualche nome dei partecipanti? Mi pare che tu modererai la serata. Sì, avrò il piacere di coordinare questa serata, alla quale treveranno, oltre al moderatore Eugenio Bernardini, ovviamente in qualità di sponsor, per così dire, di questo progetto, anche Ivan Sagné, che è un sindacalista che opera con i migranti nelle aree del Mezzogiorno e dei giorni scorsi la notizia tragica, ripetuta, di morti sul lavoro per condizioni di sfruttamento disumano. Ecco, quindi avremo una testimonianza di cosa significa operare in questo contesto. Marta Bernardini, che ci racconterà appunto più in dettaglio l'esperienza di MH a partire dalla prospettiva di Lampedusa e infine Mario Marazziti, che è il presidente, l'onorevole Mario Marazziti, che è presidente della Commissione dei Diritti Umani della Camera dei Deputati e che è stato uno dei politici che con maggiore attenzione ha seguito tutto il nostro percorso. Vorrei precisare che più che una presentazione di MH è una serata sulle migrazioni. E' quindi inclusiva di tutti i progetti che la Chiesa Valdese, l'Unione delle Chiese Methodistiche Valdese gestisce sul tema, perché davvero i soggetti che stanno contribuendo a fare di questo tema una priorità sono diversi, come vedremo anche in questa tavola rotonda. Quindi diciamo più che un'autopresentazione è un richiamo e l'espressione simbolica di Lampedusa vuole dire che noi possiamo parlare di Lampedusa anche pensando a luoghi diversi da Lampedusa. Benissimo, ringrazio Paolo Naso per questa precisazione. Come dicevo io nell'introduzione, l'impegno delle Chiese Valdese e metodiste è ormai da anni su questo fronte ed è distribuito veramente su tutta la penisola. Abbiamo recentemente il caso della Comunità di Napoli che ha accolto in emergenza un certo numero di richiedenti asilo che hanno avuto dei grossi problemi nel centro di accoglienza in cui venivano ospitati ed è stata un'azione di accoglienza assolutamente spontanea di tutta la comunità che ha avuto anche la solidarietà della Chiesa Nazionale per poter essere portata avanti. Però Lampedusa è stata e rimane un simbolo e quindi la Chiesa Valdese ha voluto con questo progetto anche della Federazione essere presente in questo simbolo con un osservatorio privilegiato dove vive ormai da parecchio tempo Marta Bernardini, a te la parola. Grazie. Grazie a voi. Da un anno e mezzo, come è stato detto, a Lampedusa è iniziata questa esperienza di un osservatorio sulle migrazioni e quindi l'obiettivo principale dell'osservatorio è proprio monitorare quello che accade principalmente nel mar Mediterraneo rispetto ai flussi migratori quindi l'idea è quella anche di comprendere quali sono le cause che portano le persone a spostarsi e essere a Lampedusa ancora oggi rimane significativo perché a Lampedusa passano molte persone passano storie e l'obiettivo di Mediterranea NOP è quello anche di raccontare in un modo diverso le storie di Lampedusa quindi avere uno sguardo diverso costruire una narrazione diversa che vada oltre la logica dell'emergenza dell'invasione che arriva facilmente nelle nostre case con i mezzi di informazione quello che vuole fare l'osservatorio è andare più in profondità e raccontare anche la storia di un'isola che è stata costruita che è diventata un simbolo di migrazione ma non è solo questo ultimamente forse si parla un po' di meno di Lampedusa perché sappiamo che gli arrivi sono anche in altre parti della Sicilia in Sardegna e in altre parti d'Italia in questo momento a Lampedusa comunque ci continuano ad essere degli arrivi come due sere fa sono arrivate mille persone e la cosa importante del progetto è che Mediterranea NOP riesce anche ad essere presente nel momento dell'arrivo di queste persone quindi siamo riusciti a lavorare insieme a tanti lampedusani e lampedusane quindi a costruire un gruppo di lavoro collettivo del territorio comunitario vorrei anche dire che ci permette di essere presenti nel luogo di arrivo e quindi offrire una prima accoglienza che vada oltre l'accoglienza delle istituzioni l'accoglienza della polizia l'accoglienza delle organizzazioni umanitarie con le divise che appunto le contraddistinguono noi siamo un gruppo di persone che volontariamente è pronta a offrire l'accoglienza un sorriso e a dare il benvenuto a persone che stanno arrivando in Europa che arrivano a Lampedusa ed è solo uno dei passaggi che ancora dovranno fare e affrontare l'arrivo a Lampedusa come in Italia appunto molte volte è una tappa di un percorso che continua che è faticoso che va incontro a difficoltà burocratiche ai limiti anche delle leggi che impongono a molte persone di dover rimanere nel paese in cui arrivano anche se hanno la volontà di andare altrove quindi essere a Lampedusa oggi è ancora molto importante è significativo ci rendiamo conto che è diventata il simbolo un po' del fenomeno migratorio in questo momento in Europa ma ci sono anche altre storie che si possono raccontare e quello che cerchiamo di fare con il progetto Lampedusa è proprio questo e quindi dare anche spazio a una popolazione che è una popolazione italiana noi diciamo sempre che Lampedusa è come il resto d'Italia quindi ci sono persone che sono pronte ad accogliere persone che magari hanno più dubbi rispetto a quello che li investe e quindi è sicuramente un luogo dove riflettere su quali sono anche le scelte che stiamo mettendo in campo come Italia e come Europa in questo momento Grazie a Marta Bernardini come diceva anche Marta chi interviene nel fenomeno della immigrazione sono anche le istituzioni e le iniziative della Chiesa Valdese dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sono assolutamente in rete con tutta quella serie di istituzioni o di altre associazioni no profit che sono coinvolte nel gestire questo particolare aspetto dell'immigrazione in particolare all'interno di piani in collegamento con anche le prefetture nella Torino città e in provincia di Torino la Chiesa Valdese attraverso le strutture della Diaconia Valdese CSD e delle opere delle valli in particolari opera ormai da anni anche all'interno dei progetti SPRAR per l'inserimento dei richiedenti asilo è un'esperienza che anche lì si evolve e che cambia di giorno in giorno in particolare negli ultimi tempi proprio negli ultimi giorni è notizia freschissima in un paese qui delle valli valdesi di Villarpellice a pochi chilometri da qui è previsto o ci dirà è già successo insomma l'arrivo di un certo nucleo di richiedenti asilo e questo ce lo dirà appunto Marco Armandugon che si occupa di questo Sì, la Commissione Sinodale per la Diaconia da molti anni si occupa della problematica dell'immigrazione e per quello che riguarda, come ricordavi giustamente tu l'area torinese, Torino-Valli per capirci meglio ha affidato alla Diaconia Valdese Opere-Valli la gestione del problema dei flussi e delle problematiche dei richiedenti asilo in questo momento come gli organi di stampa hanno già sottolineato a più riprese abbiamo un'accoglienza di un nucleo su Torino e di un nucleo abbastanza corposo sono una trentina in Val Chisone e un altro numero di una trentina che è in Val Pellice una parte sono ospitati appunto a Villa Olanda qui parliamo di una situazione per quello che riguarda la questione alla quale accennavi tu prima di Villar Pellice di una situazione di emergenza qui non si tratta di un progetto SPRAR in realtà l'unico progetto SPRAR che abbiamo gli unici progetti che abbiamo in atto in questo momento riguardano la città di Torino e riguardano Torre Pellice gli altri progetti invece diciamo così chiamiamoli progetti sono dati dalla prefettura dalla prefettura di Torino il discorso Villar Pellice rientra in questo diciamo in questo in questo quadro direi che questo è un quadro nuovo per certi versi ed è un è un quadro emergenziale vorrei sottolineare questo questo aspetto perché la prefettura di Torino si trova in questo momento in una situazione di dover mettere sistemare un numero di migranti sempre più grande tenendo conto che il centro di Settimo Torinese in questo momento è in condizioni non solo di non poter più prendere nessuno ma ha la necessità di poter di poter allocare in altra destinazione i migranti perché Villar Pellice? Villar Pellice perché la regione Piemonte possiede in loco una struttura che era una struttura una struttura alberghiera almeno era era stata predisposta in questo momento la proprietà appunto è regionale e quindi regione e prefettura hanno hanno preso questo tipo di decisione hanno interpellato naturalmente la la diaconia la diaconia valdese con le quali poi di fatto c'è un canale particolare di operatività e hanno chiesto di poter di poter di poter noi gestire noi come diaconia gestire questa questa problematicità devo dire che la la decisione vissuta insieme con la la commissione sindunale per la diaconia è stata una decisione sommato anche sofferta non è una decisione presa così su due piedi anche se la prefettura ci ha chiesto da subito di poter avere questo perché in realtà contraddice un pochettino tutto questo un modello che di accoglienza che abbiamo messo in piedi in questi diciamo in questi anni un modello di accoglienza che ha funzionato molto bene e che consiste nel fatto di avere dei piccoli nuclei di migranti o di richiedenti asilo meglio dire dislocati nei vari nei vari comuni con questi questa dislocazione ha permesso nei vari comuni di poter mettere in piedi con i comuni stessi e anche con associazioni dei progetti dei veri e propri progetti di di integrazione chiamiamoli così per quello che la parola può avere un suo significato in un contesto in un contesto comunque temporale di brevità per quello che riguarda la permanenza delle delle persone qui su Villare è una scommessa perché chiaramente vuol dire ospitare 60 persone e ospitare 60 persone tenendo conto che Villarpellice è un comune che non arriva a mille abitanti e soprattutto dove verranno ospitati sarà diciamo la popolazione si aggira su circa 100 persone effettivamente è un problema però la diaconia ama le sfide e questo è questo il problema e quindi credo che opereremo e si opererà nel migliore dei modi perché anche questo tipo di accoglienza possa dare i buoni frutti e il successo che diciamo che fino adesso hanno avuto le esperienze a Torino e nelle valli l'imminenza dell'arrivo non c'è nel senso che sono già arrivati abbiamo già 20 persone che sono giunte devo essere più preciso 10 sono già arrivati 10 devono arrivare a momenti oggi e quindi sono una ventina di persone e quindi in tempi molto molto brevi bisognerà trovare una sistemazione in questa struttura che ha avuto la necessità comunque di una serie di passaggi non solo formali ma di messa diciamo messa a punto per diciamo per l'accoglienza di queste persone chiaramente l'auspicio l'augurio ma anche l'invito che possiamo fare anche attraverso i mezzi di informazione è quello di richiedere il più possibile a tutti la collaborazione e l'aiuto sono fratelli e sorelle in gravi situazioni in gravissime oserei dire perché gravi che hanno bisogno di essere aiutati capiti in qualche modo inseriti per quanto possibile in questa realtà e quindi l'invito è che veramente la nostra popolazione che fino in questo momento ha risposto positivamente possa continuare a rispondere positivamente senza porsi troppi diciamo troppi problemi senza no senza mettere mettere in difficoltà questa diciamo questa esperienza prima di tutto umana e poi naturalmente per quello che ci riguarda una un'esperienza di accoglienza che fa parte dello spirito con cui noi lavoriamo con lo spirito della nostra diaconia grazie se ci sono domande da parte dei giornalisti in sala penso che i nostri ospiti siano felici di rispondere se non ci sono ah sì scusa grazie Diego Meggiolaro Radio Bequita Riforma voglio fare una domanda un po' più specifica a Marco Armandugon sulla questione dell'arrivo dei 60 migranti a Villarpellice semplicemente abbiamo capito che si tratta di un'accoglienza però vorrei una una riflessione un po' più approfondita su quali sono stati i progetti che ci sono stati nei nei confronti degli altri migranti dei migranti già ospitati ad esempio a Villolanda o a Torino in quest'anno cioè che cosa che proprio contraddistingue la diaconia valdese nella sua accoglienza e quindi perché la prefettura ha scelto di far gestire questa situazione alla diaconia grazie partiamo dal presupposto che la prefettura ci conosce e quindi sa come diciamo lavoriamo nei confronti dei migranti ed è ovvio che in primis chieda diciamo chieda a noi su un territorio peraltro nel quale abbiamo una forte presenza nostra ci chieda un intervento di questo tipo sui progetti beh sui progetti ce ne sono ce ne sono stati diversi e sono stati molto vari rispetto a quelle che sono le varie diciamo le varie situazioni abbiamo per esempio avuto delle esperienze con i comuni dell'altra con alcuni comuni lavorativo chiamiamolo così fra virgolette di migranti e la stessa cosa è successo qui a Torre Pellice nel progetto con il progetto Sprar di cui peraltro si è parlato parecchio e ci sono stati momenti di incontro interessanti a Torre Pellice io vorrei solo aggiungere questo che per esempio se qualcuno viene a Villa Olanda no non certamente voi perché di Radio Beckwith perché ci vivete lì dentro ma appunto sa che alcuni nostri migranti hanno per esempio ridipinto tutte le persiane che avevano bisogno di essere ridipinte Villa Olanda cosa vuol dire con questo che i nostri progetti cercano il più possibile di far sì che attraverso l'operatività queste persone abbiano in qualche modo un riscatto della loro dignità la dignità della persona passa attraverso il lavoro anche attraverso il lavoro e quindi il fatto di poterli impegnare di poterli aiutare anche in questo senso è importante è un pregiudizio pensare è un pregiudizio molto diffuso pensare che queste persone vengono qui e che gli diamo hanno il cellulare ultima ultima novità di cellulare discorrendo e bla 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 sono delle persone che molte di loro hanno proprio anche questa disponibilità anche questa richiesta di poter rendersi utile di poter lavorare noi su questi progetti ci crediamo molto e cerchiamo di fare il possibile per venire incontro a queste problematicità che diciamo che ci sono mi pare di capire c'è un'altra domanda grazie una domanda a Marta Bernardini rispetto all'osservatorio di Lampedusa leggevo un articolo su Riforma qualche settimana fa in cui lei parlava di narrazioni narrazioni non solo della vita dei migranti ma narrazioni anche degli abitanti di Lampedusa raccontava la storia di un uomo un padre biologico di figli italiani che è diventato padre anche di migranti molto bella la ringrazio di questa testimonianza volevo chiedere quale feedback voi avete come osservatorio di Lampedusa rispetto alla sensibilità che si può creare attraverso un'esperienza del genere sia in loco con gli abitanti di Lampedusa che comunque forse sono già sensibilizzati sul fatto dell'accoglienza sappiamo di tante storie ma anche a livello nazionale perché comunque il vostro progetto viene diffuso a livello di Facebook a livello di altri social network che cosa sta cambiando qualcosa c'è qualche piccolo segno di inversione di tendenza rispetto ai messaggi che invece vengono da politici vabbè è già tanto chiamare politici e da quella parte di opinione pubblica che è contraria all'accoglienza grazie per questa domanda quello che appunto noi cerchiamo di fare è raccontare delle storie anche delle persone di Lampedusa Lampedusa in realtà da sempre è stata un'isola di approdo un'isola di salvezza quindi il fenomeno migratorio riguarda Lampedusa già dagli anni 90 negli anni 90 i Lampedusani facevano accoglienza che arrivava in modo molto spontaneo diversamente dal clamore che oggi ha un po' Lampedusa sotto i riflettori quindi sono molte le persone che da anni si spendono con una grande umanità ad accogliere le persone che arrivano e la cosa che ha colpito molto noi nel nostro lavoro è vedere come in realtà queste persone di buona volontà piano piano siano un po' state messe da parte dal sistema di accoglienza che c'è in Italia quindi con la presenza di un centro di accoglienza a Lampedusa ormai le persone oggi arrivano al molo in pochi minuti vengono accompagnate al centro di accoglienza ed effettivamente il momento di incontro tra i Lampedusani e le persone che arrivano è quasi inesistente e questo è per molti una ferita aperta per persone che hanno ospitato nelle loro case minori hanno ospitato famiglie persone che ancora oggi tramite Facebook rimangono in contatto con giovani che sono nei paesi del nord che sono diventati quasi membri della famiglia oggi sapere che sull'isola di Lampedusa magari arrivano giovani donne e non poterle incontrare perché inserite nel meccanismo di accoglienza è un dolore molto grande per alcuni Lampedusani e quindi quello che stiamo riuscendo a fare con Mediterraneo è proprio il fatto di riprenderci una parte di questo spazio di spontaneità e di umanità che viene un po' rilegato a dei meccanismi esterni che fanno sentire appunto sempre più estranei gli altri che arrivano sempre più separati da noi invece secondo noi con la possibilità dell'incontro e anche un po' il lavoro che facciamo a Scicli cioè di un'accoglienza integrata con la cittadinanza di un'accoglienza diffusa è così che si può anche iniziare a superare un po' il pregiudizio delle persone che arrivano e quindi per noi è importante raccontare anche le storie dei Lampedusani che da anni vivono un po' l'arrivo delle persone sono i primi a insegnare a noi qual è un po' lo sguardo di Lampedusa noi cerchiamo solo di fare da megafono e raccontarlo e usiamo molto i mezzi di comunicazione Facebook per far un po' passare i nostri racconti le nostre storie perché l'idea è proprio quella che la testimonianza che parte da Lampedusa non si fermi solo da alcune persone che possa arrivare in Italia anche fuori dall'Italia quindi quello che scriviamo viene anche tradotto in altre lingue arriva anche in altre chiese fuori dall'Italia perché l'idea è proprio di lavorare insieme in una rete è vero che ci sono delle persone che lavorano che hanno una sensibilità verso queste tematiche e che è un po' un mondo un pochino più protetto che è quello che difende i diritti dei migranti i diritti delle altre persone che sono persone che fanno una riflessione ormai da molto tempo e quello che posso dire io è che da tante parti sta arrivando a gran voce questa richiesta di riflettere e di pensare concretamente delle altre vie legali e sicure per le persone di arrivare in Europa e quindi corridoi umanitari e in questo contesto sicuramente la federazione delle chiese sta cercando di dare una risposta concreta unendo appunto anche il lavoro della comunità di Sant'Egidio ma di tante altre associazioni sul territorio che stanno chiedendo questo dallo stessa Lampedusa è arrivata un'altra proposta sempre di aprire diciamo le ambasciate anche interrogando direttamente lo stato vaticano diciamo di una proposta di questo tipo quindi l'idea di corridoi umanitari arriva da tante direzioni e questa può essere sicuramente una risposta e cerchiamo anche un po' di unire le diverse voci che si stanno facendo sentire ormai da tanto e speriamo di poter dare anche una risposta concreta con questa proposta del Marocco grazie grazie se c'era un'ultima domanda sì Luca Baratto notizie evangeliche io volevo chiedere al professor Naso se poteva dirci qualcosa di più sulla dimensione ecumenica di di questa della dell'azione appunto di accoglienza nei confronti dei migranti abbiamo sentito che la comunità di Sant'Egidio è coinvolta nella questione dei corridoi umanitari ma qualcosa di più di ecumenico nel senso che non soltanto che le chiese collaborano insieme ma che i cristiani forse tutti quanti di fronte a questi problemi reagiscono più o meno sentendo la stessa vocazione il Papa quando è stato a Torino ha ringraziato la chiesa valdese i metodisti per il loro impegno di accoglienza e mi sembra che in quest'estate alcune alcuni politici alcuni partiti politici hanno preso posizioni pesanti contro l'idea di accoglienza scagliandosi direttamente contro la dimensione cristiana di questo aspetto forse l'accoglienza è una dimensione qualificante della testimonianza cristiana nell'oggi ed è comune a tutti i cristiani ecco questa dimensione ecumenica vorrei che ci dicesse qualche parola in più ma grazie perché non posso far altro che ribadire quello che induce già nella formulazione della domanda l'accoglienza le iniziative e il servizio per l'accoglienza sono il contenuto ecumenico più importante di oggi non c'è nessun altro settore nel quale il sentire cristiano si ritrovi diciamo unanime nell'esprimere parole e anche gesti che vadano nella direzione dell'accoglienza già citato il Papa ma io vorrei anche richiamare lo scontro politico che c'è stato nei giorni scorsi in seguito alle dichiarazioni di Monsignor Garantino relativamente al fatto che vi sia una speculazione politica sul tema dell'accoglienza con diciamo anche delle facili demagogie è una frase auto evidente totalmente evidente basta vedere l'approssimazione e la strumentalizzazione con la quale politici di diverso rango anche molto alto talora affrontano il tema migratorio il segretario generale della CEI ha detto parole chiare e ha ottenuto un sostegno per esempio da parte del Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e quindi direi che davvero stiamo assistendo a un ecumenismo dell'accoglienza o se preferite a un ecumenismo nell'accoglienza che costituisce un fatto nuovo di grande rilevanza da questo punto di vista questo passaggio lo collocherei in una nuova fase ecumenica in un nuovo corso ecumenico di cui certamente la visita di Papa Francesco alla Chiesa Valdese di Torino è stato l'evento più eclatante ma non c'è dubbio che diversamente dagli anni passati noi assistiamo a un risveglio a un risveglio anche fecondo di relazioni ecumeniche che non si collocano sul piano del confronto dogmatico tra le verità questa è stata una fase ecumenica importante necessaria faticosissima che probabilmente ha segnato un'epoca ma oggi l'urgenza di fronte a quello che noi vediamo a un'altra e scoprire che la risposta cristiana sa essere ecumenica di fronte a questa urgenza a me sembra un segno molto importante molto significativo dello Spirito Santo che forse ci vuole dire dove andare e dove andare insieme bene visto che non ci sono altre domande volevo ricordare che appunto il sinodo della chiesa valdese unione delle chiese valdesi e metodiste proprio in questi giorni oggi e domani ha in discussione sia i problemi dell'ecumenismo e anche della giusta presa in considerazione risposta dell'intero sinodo alla visita da poco citata di Papa Francesco alla chiesa valdese e anche dopo l'incontro di stasera sui fenomeni migratori domani ci sarà in discussione al sinodo proprio l'intero pacchetto diciamo emigrazione e quindi il sinodo sicuramente produrrà dei pronunciamenti degli ordini del giorno sia in tema di ecumenismo che in tema di emigrazione però questi argomenti ancora devono essere completati alla discussione del sinodo questa è stata la prima conferenza stampa del sinodo di quest'anno quindi io do un ringraziamento a Marta Bernardini Marco Armandugone Paolo Naso e a tutti gli ascoltatori di Radio Bequit e Radio Voce della Speranza e do appuntamento allo stesso orario domani per la seconda conferenza stampa del sinodo grazie a tutti per la partecipazione arrivederci a domani a domani a domani a domani Grazie per la visione!